Attivisti del Movimento 5 Stelle, tinarsi. Attivisti datati, un po' datati insomma. La questione però vorrei portarla su questioni molto concrete. Dice Alan Friedman, gli italiani non hanno capito che siamo, non siamo in una situazione di rischio, siamo proprio sull'oro del baratro. Lo dice anche Grillo, è molto drammatica secondo me questo sfogo di Grillo, molto vero, no? Lo dice da dieci anni. Ma sì, d'accordo, ma adesso, immediatamente, lei crede davvero che l'uscita dall'euro, andare a ricontrattare immediatamente il fiscal competence, sono cose possibili? Lei ci crede davvero che Grillo, prendendo il potere, il governo riuscirebbe a fare tutto questo? Vabbè, questa è un'area mirata, diciamo, economica, però io volevo fare un discorso introduttivo generale perché abbiamo parlato del 60% del tempo di Renzi e del 40% di Berlusconi stasera. Quindi vorrei in attimo fare un resumé, no? di quello che ho sentito qui come spettatore, puoi risponderti alla domanda. Io credo che se 60 milioni di persone hanno visto questa trasmissione, che sarebbe un grande successo... Beh, insomma, la ringrazio dell'augurio, insomma. Credo che il 51% che lancia Grillo come provocazione potrebbe diventare una realtà, al di là del 40% del discorso degli astenuti o degli scontenti. Perché secondo me abbiamo visto stasera veramente un film, due in uno. Uno è il ritorno al futuro, cioè Doc Renzi, a forma di scienziato, ritorna dal futuro e ci dice che ha cambiato nome al futuro, che ha eliminato le province, lo diciamo, da quattro anni, che è contro le larghe intese e è in un governo di larghe intese. E dall'altro abbiamo ritorno al passato, quel è il secondo film, quindi con la resumazione di Forza Italia. Tra l'altro, quello che mi fa specie nel dibattito, per quanto riguarda, per esempio, Renzi, il discorso della semplicità, questo era uno dei punti del programma di Forza Italia da quando è nata. Non so se la Sant'Anché non ha voluto infierire. Comunque, al di là di questa... Vi state copiando i programmi a vicenda, perché Renzi copia Berlusconi, però Renzi copia anche voi per le province. La cosa più evidente, secondo me, è questa, e cioè la finzione di un... Da un lato Renzi è costretto a fuggire nel futuro, perché se la gente guarda il presente non li vota. Dall'altro il problema di Forza Italia, il problema del PDA, non si capisce più niente. Un giorno Marina, un giorno Barbara, un giorno Luisa, un giorno eccetera eccetera. C'è una confusione totale, dove incredibilmente il movimento più giovane, che è nato a ottobre 2009, sembra l'unica realtà solida. Questa è allucinante, perché da un lato abbiamo praticamente Renzi, che si dimentica di essere PD, toglie le bandiere, poi però dice che ci vuole il voto sulla crocetta. Dall'altra parte un partito che è morto, il PDL, ne deve rinascere un altro, se ha la maggioranza rinascere, eccetera. Vi sentite bene voi? No, non è che ci sentiamo bene. Il movimento in questa fase, addirittura, che dovrebbe essere il movimento più giovane, il movimento più fragile, eccetera, rappresenta una linea di opposizione chiara, netta, solida. Questa è la cosa che mi lascia a me abbastanza stupito della situazione generale. Quindi, tornando alla domanda base, informazione e disinformazione. Dire che l'Europa non è un tabù, non vuol dire essere anti-europeisti. Il concetto che è partito dall'Europa, così come dire che non è che l'Europa deve entrare in Italia, ma è l'Italia che deve entrare in Europa. Chiaramente questo sarà un processo, dipenderà dalla forza che esprimiamo anche alle europee, però bisogna rimettere un pochino in discussione il meccanismo. Però intanto, scusi, in Trentino Alto Adige non è andata bene, qui devo dire che c'è la percezione che non avete fatto abbastanza per cambiare il paese. Il test del Trentino, diciamo che... Rispetto alle politiche, ovviamente. Rispetto alle politiche, se uno lo legge alle politiche vede un gap enorme. C'è sempre stato un gap tra nazionali e regionali. Quindi non la preoccupa, diciamo, questo risultato? A me personalmente, io credo che più il movimento rimane distante dalla logica dei sondaggi, dei voti, dei giochetti, di vinciamo o non vinciamo. A me quello che mi lascia veramente allibito è questa ossessione alla vittoria. Io capisco che Renzi è lì che freme da una vita, una volta da Bersani e compagni, eccetera. Voi non volete vincere, no? No, ma non si pone il problema di vincere, perché il problema è quello di convincere.